Ambrogio Panzeri di Rogeno ha realizzato e esposto il Duomo di Milano in miniatura nella chiesa parrocchiale dei Santi Gregorio e Marco di Casletto, frazione di Rogeno. Signor Panzeri, direi che questo è un capolavoro d'arte. Come è stato realizzato e quale tecnica è stata usata? Allora, è stato realizzato con traforo manuale che usavamo ancora a scuola quando si faceva applicazioni tecniche, diciamo. È realizzato con legno compensato di pioppo per la struttura principale, legno di betulla sempre compensato, spessore 3 mm per i contrafforti e le guglie, mentre le falconature sono tutte in betulla, sempre compensato anche quello, di spessore 1,5 mm. Ma la base che lei seguiva nel traforo qual era? Lei ha acquistato già? Mi hanno procurato i disegni mia figlia, li ha trovati in Spagna addirittura, a Sevilla, e dai disegni io facevo le fotocopie, ho fatto le fotocopie incollate sul legno e seguivo le linee del disegno col traforo. Ma quanti mesi ha impiegato? Due anni e mezzo abbondanti. Da solo? Con la collaborazione di mia moglie, delle figlie, ho coinvolto tutta la famiglia, in pratica. Alla sera, per passare un po' di tempo, facevate questo lavoro? No, tutto il giorno, una giornata intiera, perché ero in pensione, ho detto, è un sogno che avevo già da bambino. Quando ero in pensione devo fare il Duomo di Milano, però non trovavo i disegni, ancora anni fa, poi cerca cerca mia figlia è riuscita a trovarli e via, sono partito. Mi davano un po' del matto all'inizio, però l'ho fatto. Le guglie, invece, com'è che sono state realizzate? Le guglie sono composte da sei pezzi, da sedici pezzi. Quella centrale, la parte scomitare, sono 82 pezzi assemblati. Sono tutti ritagliati, poi carteggiati. Con la colla? Con il Vinaville, perché mi dà quel tempo necessario per modificare eventuali errori che ci sono. Con la colla a caldo mi cercava subito e se sbaglia di incollare è fatta, devi fare tutto. Invece le vetrate? Le vetrate sono realizzate su carta, semplice carta da fotocopie, le ha dipinte, le ha disegnate mia figlia, poi le ha ridipinte anche con l'aiuto del suo compagno e gli ho convolti un po' tutti. Poi abbiamo i colori, li abbiamo fissati, ho provato con delle vernici, come si mischiavano i colori. Abbiamo usato la lacca per i capelli e sono rimaste perfette. Cosa semplice, ma molto utile. Esatto. Invece il basamento, vediamo che il basamento è molto solido. Mi diceva che ha impiegato per fare il basamento diversi mesi. Lo zoccolino ci ha voluto un mese, un mese e mezzo, perché abbiamo usato il legno di abete, il legno di abete, però mantenendo la venatura verticale. Per cui quando si andavano a tagliare gli angolini, si spezzettavano un po' tutti, mia moglie me li faceva rifare. E il direttore tecnico era la moglie? Critico, critico era lei. Ma lei non ha realizzato solo il Duomo, ma ha anche altre opere. Quali? Sì, che si fanno la Torre Eiffel, l'Amore Antonelliana, un po' di... Ma la cosa bella è che lei durante l'estate è in oratorio feriale per aiutare, per fare questi laboratori anche con i ragazzi, con i bambini. Sì, abbiamo creato, con il beneplacito di Don Gianni, abbiamo creato un laboratorio di traforo, seguiamo una decina di ragazzi, prepariamo dei lauretti facili da fare e loro li hanno realizzati. Ma come è nata questa passione per il traforo, per queste opere d'arte? Io le chiamo opere d'arte perché sono veramente artistiche. Io non mi ritengo un artista, sono semplicemente appassionato di traforo, fin da quando ero piccolo. Mio papà mi aveva regalato un traforo e siccome andava a comprare il compensato da fareiamo e costava, mi procurava le cassette quelle di formaggini, erano di legno, ora mi faceva ritagliare quelle, e da lì è nata, a me piaceva realizzare qualsiasi cosa manualmente così e la passione è andata avanti. Poi dopo avevo smesso per problemi di lavoro, studio. Ma lei faceva il falegname? No, no, lavoravo nel campo della meccanica. Tutto un altro mondo. Tutto un altro mondo, sì, esatto. Don Gianni dell'Oro, parroco dell'unità pastorale, Rogiano Casletto. Ecco, come e perché ha accettato di mettere il Duomo di Milano in questa chiesa? Sì, abbiamo messo il Duomo di Milano realizzato da Ambrogio in questa chiesa perché già prima, qualche anno fa, l'avevamo messo nella chiesa parrocchiale di Rogiano che ha come suoi protettori Sant'Ippolito e Cassiano. Visto che la gente l'aveva molto apprezzato lì, quest'anno l'abbiamo posto qui anche nella chiesa di San Gregorio e Marco a Casletto ed è stato apprezzato oltre da le persone che normalmente vengono a messa alla domenica, anche da altre persone che vengono da via e girata la voce c'è stata una frequenza anche di persone che vengono da fuori paese. E è stato messo anche in occasione della dedicazione del Duomo di Milano. Sì, infatti l'occasione per metterla sia a Rogiano che a Casletto è stata proprio la festa dalla dedicazione del Duomo di Milano. Talvolta magari si metteva un disegno, un qualcosa che richiamava il Duomo di Milano. Avendo Ambrogio fatto quest'opera così bella e lui si è prestato a portarla, l'abbiamo messa come ripeto prima a Rogiano e poi a Casletto ed è stato un bel richiamo perché durante la messa della dedicazione, le messe della dedicazione, la gente vedeva proprio anche rappresentato il Duomo di Milano in questa miniatura che è più di una miniatura. Fino a quando resterà in questa chiesa? Pensiamo di poterlo lasciare fino ai primi dieci giorni di novembre. Ci saranno adesso le solennità dei santi, dei defunti, poi la solennità di San Carlo, appunto significativa e quindi almeno per i primi dieci giorni di novembre pensiamo di poterlo lasciare qui per chi vuole visitare la chiesa e vedere appunto quest'opera. E poi dove andrà? Ritornerà certamente a casa dell'Ambrogio, poi vedremo, magari arriverà anche nel Duomo di Milano se lo vogliono in qualche posto ben custodito. Grazie. 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 Grazie.